nome francesco francesco giovanni cognome gasparino infatti età 24 ruolo il motivo che vi ha spinto a rimanere a piacenza? i tortelli la coppa super l'ambiente è super, la sosta è super e poi ci faccio un altro anno con l'uomo e l'uomo e l'uomo e l'uomo e l'uomo faccio tutto io, lui dorme, mangia, spazio divano, non ha mai piatti, l'uomo e l'uomo è una tragedia, dico solo che è una tragedia, ormai mi sento un volontario quanto conosci l'altro? quando compie gli anni gas? gennaio tra il 9 e l'11 dipende se l'anno è bisestile oppure l'anno quando compie gli anni bubu? capo qual è il giocatore preferito di gas? eh, Kyle Corp qual è il giocatore preferito di bubu? del mailman, da cui non si è ispirato per niente, non ha preso proprio niente eh, Dio la fede calcistica di gas? è bilanista, è un bilanista di prima fascia lui la fede calcistica di bubu? eh, purtroppo anche di questa sfiga all'intervista i propositi per questa stagione? beh, sicuramente dobbiamo allenarci forte e in campo dobbiamo fare l'opposto di quello che abbiamo fatto l'anno scorso dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco da subito la stagione sarà lunghissima perché finisce metà giugno e dovremo cercare in tutti i modi di arrivare in fondo freschi perché secondo me non conta molto chi arriva primo, secondo nella griglia ma conta chi a maggio sarà fresco, sarà in forma e sarà meglio con le gambe i propositi per questa stagione? beh, sicuramente arrivare fino in fondo e per questo raccomando lavorare tutti i giorni forte in palestra cercando di creare un gruppo molto poeso e andare in campo sapendo che giocherà contro di noi darà il massimo e quindi imporci subito e vincere tutte tre motivi per vedere la prima di campionato domani sera beh, sicuramente per vedere un gruppo e due per vedere comunque un gruppo interessante con dei grandi obiettivi e tre per chi è a Vicenza sabato sera e se ne no c'è Juve Napoli per il calcio non guardatelo sport migliore sport migliore, sì e tre perché l'ambiente sarà super e speriamo di invertire la lotta quest'anno speriamo di fare l'opposto dell'anno scorso ciao 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 ciao